cari amici spesso mi scrivete nei commenti non ti curare di loro ma guarda e passa in riferimento alle contestazioni più avvilenti provenienti dagli avversari vi prego non scrivetelo più perché io rispondo a questo tipo di contestazioni anche se è un lavoro faticoso estenuante che irrita e nervosisce eccetera perché è un continuo esercizio un continuo stimolo per comprendere capire mettere a fuoco le questioni molto spesso tra l'altro i contestatori offrono degli spunti e delle documentazioni di grande importanza un caso recente quello di felipe perfetti che mi ha regalato il filmato della messa al santuario della virgen della carità molto grato sono a codice runner che nonostante i loro scarsi mezzi spesso hanno prodotto dei contributi molto importanti ed è questo il caso di oggi qualche giorno fa avevo cercato di fare loro un regalo avevo pubblicato la conferenza al sacro monte di varese di monsignor genswain in cui accanto a un palese codice ratzinger messaggio restrizione mentale larga sull'orso di san corbiniano affianca una mega panzana cioè rispondendo alla signora dice a papa benedetto ha rinunciato al munus ho fatto un discorso di tipo spirituale teologico dicendo vedete monsignor genswain continua a selezionarvi vi dice messaggi luminosi e anche zone d'ombra perché perché in quelle zone d'ombra si annidano coloro che non vogliono credere gli increduli come diceva pascala no dio ti lascia sempre un tanto d'ombra perché se tu non vuoi credere hai il libero arbitrio per rimanere a sguazzare nel tuo angolino d'ombra quello che notavo è che questi messaggi d'ombra di monsignor genswain sono fatti ad uso dei cretini perché perché sono talmente plateali sbagliati errati in modo talmente evidente che costituiscono anche loro un messaggio positivo in restrizione mentale larga perché se monsignor genswain dice beh abbiamo 265 papi sono tutti diversi uno dall'altro è una castroneria che ti fa capire subito che vergogliano nel papa oppure se dice sì sì papa benedetto ha firmato la rinuncia alle ore 20 del 28 febbraio è una panzana perché aggiunge tra l'altro che prende l'elicottero alle ore 20 è un messaggio autocontraddittorio a volte però monsignor genswain ha schiacciato il pedale su questi messaggi d'ombra dicendo affermando modo categorico che papa benedetto ha rinunciato al monus beh anche questo è facilmente smentibile basta andare sulla declarazio si vede subito che non ha rinunciato al monus ora questo è il codice genswain che differisce dal codice razzine perché papa benedetto in ogni messaggio lui inseriva sempre un'anfibologia un fraintendimento iniziale un riferimento storico eccetera cioè la perfezione dei messaggi in codice razzine è che ognuno contiene la verità sono tutti messaggi in restrizione mentale larga il codice genswain è diverso continua in buona parte utilizzare la restrizione mentale larga ma inserisce anche delle palesi panzane ora l'interrogativo che mi sono posto in questi ultimi due giorni è ma c'è una giustificazione teologico morale per sparare queste panzane perché la restrizione mentale larga deve presupporre sempre la possibilità di capire la questione allora diciamo dal punto di vista morale come può monsignor genswain sparare delle palesi falsità e qui ho trovato un articolo fondamentale del catechismo che sblocca tutta la situazione ci fa comprendere la natura del codice genswain articolo 2491 del catechismo i segreti professionali di cui sono in possesso per esempio uomini politici militari medici e giuristi o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto devono essere serbati tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida a chi ne viene messo a parte o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità le informazioni private dannose per altri anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionale il clou qual è le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto devono essere serbate ora il segretario del papa è colui che ne mantiene i segreti perché il segretario viene da segreti è un uomo politico lui stesso si definisce uno statista credo anche perché monsignor gheswain fosse il segretario di stato del papa impedito adesso ascoltiamo che cosa dice monsignor gheswain nella conferenza di sabbioneta ascoltate bene che cosa dice non ho pensato a niente di diciamo di questo però era un po strano prima poi sedersi allora ha messo le borse accanto e poi mi dice senta non ho più le forze mi sono consultato con il signore ho pregato ho lottato ma sono davanti alla mia coscienza venuta alla convinzione e anche alla decisione di dover rinunciare al pontificato questo lo dico adesso e lei deve mantenerlo nel sigillo a pontificio perché chiaro questo non deve uscire ecco qua avete la prova direttamente dalla voce di monsignor gheswain che lui è stato messo sotto il sigillo del segreto pontificio da papa benedetto naturalmente non dice che questo sigillo è decaduto perché perché sappiamo che la declarazione era un annuncio di sede impedita siccome la sede impedita non è stata ancora ufficializzata il sigillo del segreto pontificio prosegue prosegue fino ad oggi quindi monsignor gheswain è ancora sottoposto al sigillo del segreto pontificio e quindi siccome deve serbare il segreto professionale che gli è stato affidato da papa benedetto lui che cosa fa certe volte deve difendere la vulgata legittimista di bergoglio per quale motivo per serbare il segreto che gli è stato affidato è chiaro che lui non può continuare ad libitum a parlare in restrizione mentale larga per quale motivo perché questo tipo di comunicazione è stato sviscerato decodificato in quattro anni nel lavoro del sottoscritto quindi se oggi monsignor gheswain 100 volte su 100 continuasse esprimersi in restrizio mentale isolata dicendo a sì papa benedetto ha validamente rinunciato al suo ministero sì papa benedetto ha sempre detto che il papa è uno solo e così via no è chiaro che non serverebbe più il segreto perché ormai quel tipo di comunicazione è esausta quel codice è stato decodificato quindi lui avendo l'obbligo di serbare il sigillo del segreto che gli ha affidato papa benedetto deve alcune volte fare delle affermazioni che sono univocamente e palesemente legittimiste di bergoglio ecco perché dice il papa è francesco benedetto ha rinunciato al monus tra l'altro in quella intervista al tg5 che ha prodotto codice runner se ci fate caso monsignor gheswain dice il papa è francesco ma c'è un taglio all'inizio della sua frase quindi lui magari aveva detto tutti sanno che il papa e francesco messaggio restrizione mentale larga il sapiente taglio di tutti sanno che rende la sua affermazione univoca ad usum dei cretini che infatti poi ci cascano attenzione non sono menzogne quelle di monsignor gheswain per quale motivo la menzogna ci spiega l'articolo 2508 del catechismo consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare il prossimo è una menzogna con l'intenzione di fregare gli altri quindi è malevola dire il falso con l'intenzione di ingannare di fregare il prossimo lui non sta dicendo il falso con l'intenzione di ingannare il prossimo lui a volte dice cose false e che sono palesemente evidentemente marchianamente false per serbare il segreto pontificio per quale motivo perché i messaggi di restrizione mentale larga sono ormai esausti e qui noi ci dobbiamo togliere il cappello di fronte al monsignor gheswain perché rimanendo fedele a quest'obbligo del sigillo del segreto pontificio lui sta continuando a far capire a chi vuol capire la realtà perché abbiamo detto e abbiamo verificato che quando lui dice cose false sono falsi in un modo talmente evidente da continuare in un certo senso ad essere messaggi di restrizione mentale larga tant'è che noi continuiamo a non crederci continuiamo a verificare ha detto che ha rinunciato al munus bene non è vero ecco spiegato il perché delle colossali panzane di monsignor gheswain perché lui deve serbare il sigillo del segreto pontificio grazie a codice runner perché ci ha stimolato a questa ulteriore ricerca che ci ha fatto trovare la radice canonico teologica morale grazie al quale monsignor gheswain utilizza un codice di comunicazione diverso da quello di papa benedetto che era una restrizio mentalis pura per così dire il codice gheswain è una restrizione mentale che però deve serbare il segreto pontificio e quindi a volte deve palesemente platealmente goffamente appoggiare la legittimità di bergoglio lo fa sempre in modo da selezionarvi grazie a codice runner un caro saluto a tutti ci vediamo il 7 e l'8 in salire grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.